Anteprima della stagione lirica del Marrucino di Chieti con il Don Giovanni di Mozart, una coproduzione tra la deputazione e l'associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano. Lo spettacolo andrà in scena alla Civitella domenica prossima alle 20.30. Entrare nel vivo di questa convenzione che sancisce un'unione tra il Ministero della Cultura e la deputazione teatrale, infatti gestiremo tutto il parco archeologico della Civitella per i futuri tre anni. Lo faremo con un palco residente che siamo riusciti ad installare grazie a uno sponsor importante e lo faremo anticipando la stagione lirica autunnale con questa opera di Mozart che è il Don Giovanni. Un'anteprima dedicata completamente ai giovani ad un messaggio sociale, quello sulla sostenibilità ambientale. Infatti tutto questo nasce da un progetto giovanile, da un'opera studio. Io ho pensato che l'orchestra sarà composta da giovani di un massimo di 25 anni anche con dei giovanissimi, non solo, anche il cast con giovanissimi interpreti che daranno sicuramente un valore aggiunto con la loro energia e con il loro entusiasmo. La scenografia è molto interessante perché come dicevo è tutta realizzata, scenografia e costumi sono tutti realizzati con materiale di riciclo. Questo è un progetto molto grande e importante che vuole dare, ripeto perché è molto importante, un valore sociale a quello che stiamo facendo. La stagione lirica entrerà nel vivo in autunno quando al Marrucino andranno in scena Madama Butterfly di Puccini il 14 e 16 ottobre, la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni il 18 e 20 novembre e il Don Pasquale di Gaetano Donizetti il 9 e 11 dicembre. Sarà una stagione ricca di innovazione, ricca di messaggi, ci sarà tanto da dire, naturalmente l'interesse maggiore per quello che mi riguarda come direttore artistico è andato verso la ricerca di voci importanti, verso la ricerca di giovani in carriera e anche di registi e scenografi che potessero dare un tocco nuovo, dare messaggi nuovi, qualcosa di contemporaneo, quindi che potessero in qualche maniera creare un'innovazione anche nel linguaggio stesso di opere ormai ascoltate da anni. Il presidente della deputazione, Giustino Angeloni, ha anche annunciato l'apertura della campagna abbonamenti con un aumento inevitabile dei prezzi del 10% quando altrove, ha sottolineato sempre Angeloni, sono del 15 o 20%, mentre la messa in scena del Don Giovanni, aggiunge, è stata resa possibile dalle economie della stagione precedente.